Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra Assemblea annuale quest'anno 2019. Gentili ospiti, cari amici e colleghi, nel ringraziare tutti voi per la partecipazione odierna, desidero esprimere particolare riconoscenza agli autorevoli ospiti e relatori che ci uniranno oggi con la loro presenza. Presidente Sassoli, Presidente Fontana, Direttore De Felice, Presidente Ronchi, grazie a nomi di tutti i siderurgici italiani. Come potete vedere dalla coreografia del palco e dalla grafica delle pubblicazioni che vi sono state consegnate, sono passati 30 anni da quando con Lugimiranza è nata Federacciai, dall'accorpamento di tre associazioni, a Sider, Isa e Usi. Fu una scelta tanto giusta, allora, quanto travagliata e non scontata. Questi 30 anni hanno dato ragione a chi aveva avuto il coraggio della scelta perché ci hanno confermato, anche grazie a che ha gestito Federacciai, che l'unione fa la forza e che lo stare insieme, soprattutto quando siamo riusciti ad essere particolarmente coesi, ci ha consentito di raggiungere risultati importanti per il nostro settore e le nostre imprese. Per questo vorrei ricordare e ringraziare i presidenti che mi hanno preceduto, ma anche i direttori che si sono succeduti dall'89 ad oggi. E quindi grazie a Mario Lupo, Alberto Falc, Nicola Menduni, Giuseppe Pasini, Antonio Gozzi e per quanto riguarda i direttori Giancarlo Longhi, Nicola Palumbo, Enrico Badiali, Salvatore Salerno e Flavio Bregant. L'Assemblea di quest'anno è anche l'occasione per presentare la terza edizione del nostro rapporto di sostenibilità, uno strumento molto importante che ci aiuta a comprendere e far comprendere meglio il nostro settore, sfatando tanti luoghi comuni che circolano sulla siderurgia. Ne parlerò dettagliatamente più avanti, ma soprattutto ascolteremo tutti con grande interesse le considerazioni nel merito del presidente Doronchi. Prima di sforvi alcune riflessioni sul contesto politico ed economico in cui operiamo e sui temi che rappresentano opportunità e criticità per il nostro settore, vorrei fare qualche breve considerazione sulla tema del mercato, che è il campo di battaglia nel quale ci troviamo tutti i giorni a combattere il mercato. Esattamente un anno fa, in occasione della mia prima Assemblea, vi avevo detto che il contesto economico generale era positivo, ma il lieve calo della produzione industriale consuntivato a luglio 2018, unito alle turbulenze politiche e commerciali mondiali, incominciavano ad estare qualche preoccupazione. Purtroppo non mi sbagliavo, ed infatti dal terzo trimestre del 2018 è iniziato un lento ma inesorabile declino sia in termini di volumi che di prezzi. Non siamo certo ai livelli drammatici del 2009, scusate, ma la visibilità è scarsa e il declino non accenna a fermarsi. Nel materiale che vi è stato consegnato trovate i dati del 2018 e dei primi 8 mesi del 2019. Se il 2017 era stato un anno molto buono, il 2018 è stato un anno ottimo che poteva essere eccezionale se l'ultimo trimestre fosse stato sul passo dei primi 9 mesi. Nei primi 8 mesi del 2019 la produzione mondiale è stata di quasi 1 miliardo e 240 milioni, con una crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma l'andamento positivo è stato realizzato soprattutto in Asia, dove la Cina con 665 milioni di tonnellate e l'India con 75,7 sono cresciute rispettivamente del 9,1 e del 4,4%. Di tutt'altro tenore l'andamento del vecchio continente, con i primi due produttori europei, Germania e Italia, che segnano un meno 4,4%, la Francia meno 2,2 e la Polonia meno 10. Unica controtendenza fra le nazioni europee che producono più di 10 milioni di tonnellate all'anno, la Spagna che è cresciuta dell'1%. La Russia è rimasta sostanzialmente invariata, più 0,4, gli Stati Uniti sono cresciuti del 4,1, il Brasile è sceso del 5,4, il Messico dell'8,7. L'Iran è cresciuto del 6,4 della Turchia è crollata del 10,5%. La lettura di questi numeri restituisce plasticamente la fotografia della situazione che stiamo vivendo, caratterizzata da forti disarmonie e tensioni internazionali. Il contesto internazionale. Ma la lettura di questi numeri ci dice anche in modo estremamente eloquente che l'Europa è in grande difficoltà e si deve dare una bella svegliata. Presidente Sassoli, l'industria siderurgica italiana ed europea hanno bisogno di crescita, che è la prima medicina ma anche di essere salvaguardate dalle dinamiche distorsive e dalla concorrenza sleade che rischiano di rendere il nostro continente il punto di scarico della sovraccapacità produttiva che avanza inesorabilmente. Per comprendere la dimensione teorica del rischio vi basti un dato. L'Ox estima un eccesso di produzione mondiale di acciaio pari a 550 milioni di tonnellate, ovvero più del triplo di quella che è la produzione dell'Unione Europea nel 2018. Ma tutto ciò non basta se non si comprende che il problema è innanzitutto politico e attiene alla definizione di nuovi equilibri mondiali che alcuni vorrebbero costruire marginalizzando l'Europa. Per contrastare queste tentazioni ci vuole un'Europa coesa e quindi autorevole e dinamica, ovvero capace di stimolare investimenti. E perché la crescita non sia solo uno slogan vuoto, che si trovano nuovi strumenti economici e finanziari in una logica di ritrovato senso dell'Unione. La dimensione del bilancio comunitario, che è pari a circa l'1% del PIL dell'Unione Europea nel suo complesso, è molto contenuta, infinitamente più bassa del bilancio federale americano, ma anche al di sotto dei bilanci pubblici di molti Stati membri. Poiché non è immaginabile far crescere il bilancio aumentando le attuali entrate, contributi versate dagli Stati membri e dazi doganali, si pone con sempre più forza e urgenza il tema degli Eurobond, l'unico strumento che può effettivamente fungere con efficacia da volano per la crescita. Quella degli Eurobond è una vecchia proposta che ciclicamente e in modio vi parts ricorre. Era uno dei cavalli di battaglia dei Tremonti, ma è stato anche oggetto di un'articolata proposta dei professori Prodi e Quadricurzio. Allora forse i tempi non erano ancora maturi, ma oggi le condizioni sono profondamente cambiate e da vercolaggio di rilanciare questo tema è il modo migliore non solo per favorire la crescita, ma anche per riaffermare il senso politico e sociale dell'Unione. Ci sarebbero molte altre cose da fare, ma per ragioni di tempo mi invito a fare solo un'annotazione sull'ipotetica Brexit, vista però dal punto di vista strettamente siderurgico. Al fine di maggio di quest'anno la British League è entrata in amministrazione straordinaria. Il commissario straordinario, supportato dal governo, sta negoziando in esclusiva l'accessione della società con la società Ather Holding, di proprietà del fondo pensioni dell'esercito turco, ed in alternativa a un'offerta del gruppo siderurgico cinese Genji. Da quel poco che trappela sulla stampa, si intuisce che per salvare 7.000 posti di lavoro, il governo britannico si starebbe impegnando a sovvenzionare il compratore. In un scenario Brexit, con o senza accordo, quali strumenti avrà la Commissione per contrastare questo potenziale aiuto di Stato? E in quanto tempo sarà eventualmente in grado di attivarli? E ancora, rimanendo sempre nel settore siderurgico, cosa succederà se il progetto di fusione tra l'angolo indiana Tata che ha impianti in Inghilterra e Olanda e ThyssenKrupp dovesse ripartire? L'accordo era stato fermato dalla Commissione europea perché i rimedi che venivano proposti per evitare posizioni dominanti in alcuni segmenti di produzione nell'ambito dei prodotti piani non erano stati accettati dai contraenti. In caso di non dire, infine, la siderurgia britannica potrebbe uscire dal sistema europeo ETS, guadagnando una riduzione dei costi di produzione stimata in 30 euro a tonnellata di acciaio. Questa sarebbe un'evidente distorsione del mercato, soprattutto se si considera che il 75% della produzione inglese di acciaio nel 2018 è stata esportata in Europa. Queste sono le sfide che si trovano ad affrontare il nuovo Parlamento europeo e la nuova Commissione. Sfide di alta politica internazionale, ad un bivio forse pocale, ma anche sfide su piccole specificità che possono però produrre effetti molto preoccupanti, non solo nel settore siderurgico, ma più in generale per tutto il nostro mondo produttivo europeo, il contesto italiano. Un nuovo Governo, anche se non un nuovo Parlamento, lo abbiamo anche in Italia. I problemi da affrontare sono noti e la nostra richiesta generale, anche in questo caso, è crescita e sviluppo. Per entrare nel merito delle nostre istanze al Governo vorrei partire con una citazione tratta da Orwell. I pensatori della politica si dividono generalmente in due categorie, gli utopisti con la testa fra le nuvole e i realisti con i piedi nel fango. Noi abbiamo bisogno che entrambe le categorie convivano e lavorino in sinergia. A questo Paese serve una visione e una progettualità di lungo periodo, ma serve, ma senza trascurare o sottovalutare i problemi dell'oggi, la cui soluzione è diventata sempre più urgente. In questo momento abbiamo quindi un disperato bisogno di politici che mettano i piedi per terra e che non abbiano paura di sporcarsi le scarpe nel fango. Dopo mesi di latitanza rispetto ai reali problemi dell'industria servono persone che abbiano la sensibilità e l'umiltà di vedere i problemi anche dal nostro punto di osservazione, per avviare un confronto non ideologico, sano e costruttivo, che è l'unica strada per trovare le soluzioni che il Paese reale si aspetta da anni. I temi sarebbero moltissimi, ma quelli che noi siderurgici consideriamo prioritari sono quattro, infrastrutture, industria 4.0, ambiente ed energia. Per quanto riguarda le infrastrutture, chiediamo non solo di partire senza ulteriori indugi, con quanto è già cantierabile, ma anche di avere l'ambizione di lanciare, magari con il sostegno dell'Unione Europea, un grande progetto che coinvolga tutto il Paese senza lasciare nessuno indietro. Siamo abituati a sentire spesso dure polemiche che contrapongono il nord e il sud, o le grandi opere alle piccole opere. Queste polemiche sono sterili e servono soltanto a non decidere. Per essere un'azione sana abbiamo bisogno che l'apparato circolatorio del corpo, Italia, funzioni bene e sia fluido, che sia dedicata attenzione alle arterie principali, ma anche alle vene e ai capillari. Perché laddove il sangue non fluisce correttamente si rischia la cancrena, che per una società vuol dire la povertà, il degrado ed il proliferare della criminalità. E quindi bisogna collegare meglio il nord e sud, l'est a ovest, completare finalmente le grandi opere, ma anche avviare un piano straordinario di medie e piccole opere, non trascurando il consolidamento e miglioramento delle strutture esistenti, consentendo la ripresa dei trasporti pesanti ed eccezionali. Un grande piano infrastrutturale sarebbe la giusta medicina sia per l'economia italiana che per l'occupazione. Sia per i produttori sindirurgici che con i loro prodotti possono fornire tutti i materiali per darle le soluzioni infrastrutturali più moderne e sicure. Un altro volano importantissimo per la crescita è stato il programma 4.0, che ha dato, e vorremmo che continuasse a dare sempre di più, un forte impulso agli investimenti e non solo nel nostro settore. Le nostre aziende hanno raccolto la sfida, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale, ed hanno investito molto, migliorando non solo impianti e processi, ma dando anche un forte impulso allo sviluppo di un indotto tecnologico e meccanico, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra industria nazionale. Riteniamo sia pertanto necessario che il provvedimento venga rilanciato per dare ulteriore slancio agli investimenti e per agevolare il rafforzamento delle attività di formazione dei lavoratori, a sostegno dell'implementazione non solo delle nuove tecnologie, ma anche e soprattutto di un nuovo modo di lavorare. I primi segnali che il nuovo Governo ha mandato su questo punto fanno ben sperare. Per quanto riguarda l'ambiente, auspichiamo un approccio concreto che sappia andare oltre all'orizzonte dei luoghi comuni e della ricerca di facile consenso. Noi siderurgici siamo come sempre pronti a fare la nostra parte e non ci tiriamo indietro rispetto alla continua ricerca delle migliori tecnologie che possono essere adottate nei nostri impianti. Che cosa chiediamo in cambio? Regole certe e certezza di diritto. Ritornerò su questo punto cruciale verso la fine della relazione. Infine l'energia, voce di costo fondamentale per quando riguarda le attività siderurgiche. Anche su questo avrò modo di entrare più avanti nel dettaglio. Quello che però voglio dire subito e che ripeto ogni volta che non ho l'occasione per chiarezza è che i siderurgici non hanno e non cercano sovvenzioni. I siderurgici e più in generale tutte le aziende ad alto consumo di energia chiedono semplicemente che l'energia elettrica e del gas abbiano in Italia un costo allineato a quello dei principali competitor europei. E per ottenere questi risultati tutte le aziende ad alto consumo di energia con i siderurgici in prima fila hanno sostenuto e sono in grado di sostenere importanti impegni sia dal punto di vista tecnologico che da quello degli investimenti. Il rapporto di sostenibilità. L'energia non a caso occupa uno spazio molto importante anche nel nostro rapporto di sostenibilità 2019. Spesso ci scontriamo con il luogo comune pseudo pedagogico che se dovessimo pagare poco il megavattora non saremmo stimolati a spingere verso il risparmio energetico. Falcio. Grazie ad innovazioni e ingenti investimenti la siderurgia italiana si conferma tra le più efficaci rispetto alle principali siderurgie europee con consumi specifici a parità di produzione ampiamente al di sotto di Germania, Francia e Inghilterra. E questo sia in termini assoluti che per quanto riguarda il trend perché uno dei difetti dell'uomo siderurgico italiano spinto anche da una forte e leale concorrenza eterna è quello di non pensare mai di essere arrivato ma di cercare sempre e comunque nuovi traguardi da raggiungere per ridurre i costi e migliorare la qualità dei processi e i prodotti. Un altro elemento paradigmatico di questo senso è la gestione della risorsa idrica. Negli ultimi otto anni a parità di produzione i consumi sono calati del 14% anche grazie agli investimenti che hanno avuto come obiettivo la massimizzazione del ricircolo delle acque. Non voglio farvi perdere tempo sui dettagli del rapporto di sostenibilità che oltre ad essere l'oggetto delle conclusioni di questa giornata potete comodamente consultare in ufficio o a casa. Permettetemi però qualche autoriore sottolineatura su alcuni aspetti che più di altri sfatano vecchi luoghi comuni e soprattutto che danno al nostro settore il compito non solo di sostenere lo sviluppo ma di farlo in modo sempre più sostenibile. Si parla tanto per esempio di economia circolare. Ebbene l'Italia è il primo paese europeo per il riciclo dell'acciaio. Nel 2018 le acceie italiane hanno rifuso circa 19 milioni di tonnellate di rotame ferroso. Tanto per capirci un peso pari a 2600 volte quello della struttura in ferro della Tour Eiffel. L'economia circolare e anche la gestione degli scarti delle produzioni con percentuali di recupero importanti che tuttavia, e qui sta il paradosso, talvolta vengono limitate da situazioni normative che generando varie interpretazioni finiscono per portare alla paralisi dell'attività. Mi riferisco in particolare alla scoria di aceria che in tutta Europa viene comunemente riutilizzata per realizzare sottofondi stradali in alternativa al mistone di cava, evitando così anche il consumo del territorio. Ritornati a casa vi consiglio quindi di leggere con grande attenzione il rapporto di sostenibilità. Troverete molte altre informazioni utili su temi importanti come ad esempio l'adozione delle migliori tecniche disponibili in campo ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed alcuni casi di studio aziendali veramente interessanti. Alla fine sarete orgogliosi di rivedere quanta strada e quanti investimenti abbiamo fatto e stiamo facendo per trasformare le nostre fabbriche, rendendole delle vele e proprie eccellenze a livello mondiale dal punto di vista della compatibilità ambientale. Sicurezza. Nel rapporto di sostenibilità troverete anche una parte dedicata alle risorse umane, alla formazione e al fondamentale tema della sicurezza. La sicurezza è una priorità assoluta e imprescindibile che impegna tutte le nostre aziende in un lavoro incessante di analisi, prevenzione e formazione. Ciò nonostante purtroppo succedono eventi gravi che ci segnano nel profondo come uomini e come imprenditori. Sulla sicurezza non si può mai pensare di essere arrivati, ma bisogna sempre tenere altissimo l'attenzione e non dare mai nulla per scontato. Lo scorso anno vi avevo anticipato che Federacciai avrebbe avviato nuove iniziative al fine di mettere a disposizione degli associati informazioni che potessero aiutare tutti a crescere e migliorare. Sulla falsa riga di quanto realizzato da World Steel, l'Associazione Mondiale dei Prodotti Siderurgici, stiamo iniziando a lavorare per rendere più efficace il nostro osservatorio di sicurezza, aggiungendo alle rilevazioni statistiche, indici di frequenza, gravità e durata, anche preziosi indicazioni qualitative, ovvero l'analisi delle diverse cause dell'infortunio e nonché la raccolta di maggiori dettagli in riferimento agli infortuni senza giornate lavorative persi. Devo dire che la risposta dell'azienda associate è stata molto positiva. Questo conferma non solo che la sicurezza è per tutti noi una priorità, ma anche che la proporzione verso il miglioramento continuo è diffusa e porta a valorizzare le occasioni che vengono date per capitalizzare il confronto fra realtà che hanno la stessa tipologia di processi. Si tratta di un primo passo importante verso obiettivi più ambiziosi, anche perché, se è vero che ogni infortunio ha una sua storia unicità, il confrontarsi fra detti lavori aiuta comunque a crescere portando nelle singole aziende nuove idee e nuovi obiettivi di miglioramento per tutelare quella che per noi è la risorsa più importante, le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori. Risorse umane. Lo scorso anno avevo sollevato il problema che in siderologia facciamo sempre più fatica a trovare persone che abbiano la voglia e la competenza per lavorare nelle nostre aziende. La situazione che stiamo vivendo in questo momento, caratterizzata da un netto calo dei volumi, concentra i nostri sforzi più sul versante della gestione delle diminuzioni di turnazioni che verso la tematica delle assunzioni. Anche se il tema del decrement si è apparentemente raffreddato, bisogna però sempre ricordare che sotto traccia il problema esiste e non appena ci sarà la ripresa si proporrà in modo pressante. Per questo non dobbiamo lentare l'attenzione verso tutte quelle attività di formazione che abbiamo avviato come associazioni o singole aziende e che concorrono a costruire le maestranze e i manager del nostro futuro. L'imponente stagione degli investimenti in logica 4.0 ci pone tra l'altro obiettivi sempre più ambiziosi, perché la trasformazione del lavoro che stiamo vivendo vede sempre e comunque l'uomo al centro, ma con profili professionali nuovi e altamente qualificati. Insomma, la siderologia del futuro sarà sempre più sofisticata e affascinante, ma questo i ragazzi che oggi si apprestano ad iniziare percorsi di studio tecnici universitari non lo sanno. Bene quindi l'attenzione che stiamo rivolgendo agli istituti tecnici delle università, ma dobbiamo renderci conto che per innescare un cambiamento culturale vero e proprio il proselitismo deve iniziare da prima, ovvero da quando i ragazzi incominciano ad interrogarsi sul loro futuro lavorativo. In questo senso trovo particolarmente interessante un'iniziativa promossa da Fondazione Marcegaglia che sta per partire rivolta ai licei di diverse città con interessi siderurgici e che vede impegnate in prima persona alcune delle nostre associate. Un'iniziativa che potrebbe aprire una nuova strada per attirare i giovani alla siderurgia e fare cultura industriale. E adesso, prima delle conclusioni, le questioni per noi di maggiore attualità e importanza. L'energia e gli sviluppi su alcune situazioni di criticità che sono anche oggetto di grande attenzione mediatica. Energia. Fatta all'inizio la premessa che i siderurgici e, più in generale, i forti consumatori di energia chiedono semplicemente di essere messi in condizioni di fronteggiare costi alla pari per la durissima concorrenza internazionale, permettetemi su questo tema di essere didascalico e affrontare in modo dettagliato i singoli aspetti del problema. Negli ultimi 15 anni siamo riusciti a mantenere la nostra competitività grazie all'esistenza di tre istituti, l'interrompibilità, Interconnector e l'articolo 39 Energivore. Nel 2020 si concluderà l'ultimo triennio di interrompibilità e, ad oggi, pur sapendo che lo strumento è ritenuto strategico dagli organismi regolatori, non è chiaro quali siano le intenzioni del Governo. Si tratta di uno strumento fondamentale per la difesa della rete nazionale, che ha lo scopo di mitigare il rischio di disalimentazione dei consumatori, che aumenta, peraltro, con il crescere della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non programmabili, caratterizzate da forte discontinuità. Le aziende del settore siderurgico, che furono le promotrici 20 anni or sono del servizio, hanno sempre dato a questo servizio un contributo fondamentale, sia in termini quantitativi che qualitativi. L'ultimo caso rilevante, e che dovrebbe essere preso a riferimento per sostanziare la necessità di continuità, è avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 di maggio di quest'anno, quando, per compensare un guasto dell'elettrodotto che ci collega con la Svizzera, le aziende energivole di Piemonte, Lombardia e Veneto hanno gestito in sicurezza un distacco di 45 minuti. Lascio a voi immaginare cosa sarebbe successo nel nord Italia se non ci fosse stata questa riserva di emergenza. Per quanto riguarda Interconnector, stanno proseguendo le attività avvolte alla realizzazione di connessioni elettriche con i paesi confinanti, finalizzate al miglioramento delle condizioni di accessibilità del mercato europeo dell'energia elettrica. Interconnector Italia, il consorzio che raggruppa gli energivoli e all'interno delle quali i siderurgici per consumi hanno una posizione preeminente, ha avviato tre progetti di connessione per un totale di 950 MW, tra Francia, Montenevo e Austria, che saranno completate nel 2021 grazie a un investimento complessivo a carico degli energivori di oltre un miliardo di euro. Infine l'articolo 39, misura introdotta nel 2013, che interessa più di 3.000 imprese ad elevate incidenze dei costi di energia sul valore della produzione e che consente di mantenere la competitività a fronte dei crescenti costi dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Queste tre misure ci hanno consentito di avere un costo dell'energia elettrica paragonabile a quello dei nostri concorrenti europei. Mettere in discussione anche una sola di queste misure ci farebbe immediatamente arretrare in termini di capacità competitiva, producendo a cascata danni incalcolabili. La consapevolezza che comunque bisogna sapersi adeguare agli scenari che cambiano, la serietà delle nostre imprese e dei nostri imprenditori e la dimensione dei consumi energetici dei settori industriali cosiddetti energivari, ha prodotto una serie di riflessioni interna finalizzata all'attivazione di PPA, Power Purchase Agreement, volti ad accompagnare i progetti di decarbonizzazione in atto. Aspichiamo pertanto che con il nuovo Governo sia possibile eviare un confronto serio, leale e soprattutto non ideologico, che consideri l'interrompibilità per quello che ha dimostrato di essere, ovvero un insostituibile strumento per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, e che prolunghi gli effetti dell'interconnetto virtuale per i megawatt ancora da realizzare, anche a sostegno degli ingenti investimenti che gli energivoli si impegnerebbero a realizzare nel campo delle energie rinnovabili. Sempre per quanto riguarda l'energia, vorrei citare ancora due punti molto importanti, il gas e le compensazioni per il carbon leakage. Sul gas, Confindustria ha fatto un prezioso lavoro di analisi comparativa sui costi di approvvigionamento a livello europeo, dimostrando che anche in questo caso i prezzi italiani risultano essere di gran lunga superiori a quelli della media dei nostri competitor. Su queste basi è stata avviata una interlocuzione con il Governo, che ha l'obiettivo di ottenere una riduzione degli oneri tanifari per i settori industriali più sensibili al prezzo dell'energia e più esporti alla concorrenza europea. L'auspicio è che con il nuovo Governo possa essere ripreso il tavolo di discussione che si avrebbe avviato prima dell'estate, e che ovviamente si possa rapidamente arrivare ad una conclusione condivisa. Per quanto riguarda infine i meccanismi di compensazione per il carbon leakage, riteniamo che il recente decreto legge per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali dia un primo segnale significativo, ma non ancora sufficiente se comparato alle misure attive a favore delle industrie energivore tedesche, francesi, belghe, spagnoli e inglesi. Per il grande lavoro che hanno fatto e continueranno a fare sui temi energetici, consentitemi di ringraziare non solo Tonino Gozzi, ma anche Beppe Pasini, nella sua qualità di coordinatore del tavolo energie di Confindustria, e Massimo Beccarello, che con grande competenza e equilibrio ed efficacia è sempre in grado di sostenere con autorevolezza le ragioni di tutto il sistema Confindustriale. Le criticità aziendali aperte Prima di arrivare alle conclusioni, permettetemi qualche breve riflessione sulle situazioni critiche che purtroppo si protraggono da anni. Partirei da Trieste. Mostrando, come sempre, grande coraggio e propensione all'innovazione, il gruppo Arvedi acquisisce nel 2014 lo stabilimento di Trieste e si impegna con ingenti investimenti non solo a migliorarne le performance ambientali, secondo quando previsto dall'AIA e dall'accordo di programma stipulato al momento dell'acquisto, ma anche investendo in nuove attività non legate al ciclo integrale. Nonostante tutto ciò, i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma, nel frattempo cambiati dopo libere le elezioni, pur sottolineato il rispetto da parte dell'azienda delle prescrizioni e dei parametri emessivi, arrivano a sostenere che non essendo il ciclo integrale una presenza gradita al territorio, occorre che ne venga pianificata la dismissione. Non entro ulteriormente nel merito della questione, se non per testimonare la nostra totale solidarietà all'azienda, auspicando che su questa vicenda si trovi rapidamente una ricomposizione positiva per tutti. Quello che mi preme invece a sottolineare è che quanto sta succedendo a Trieste è la triste dimostrazione che nel nostro Paese non esiste la certezza del diritto. Può investire e rispettare tutte le leggi, ma se alla fine dai fastidio perché esisti, si mette in moto un meccanismo mediatico istituzionale che ti spinge verso la chiusura. Quanto sta succedendo a Trieste rischia pertanto di avere, di diventare un precedente molto preoccupante, soprattutto se per analogia viene rapportato alla situazione di Taranto. Cosa dovrebbe pensare a questo punto Arcelor Mittal che sta investendo in gentissime risorse per ottemperare all'AIA ed ha la responsabilità di migliaia di posti di lavoro? Sono già intervenuto pubblicamente a sostegno di Arcelor Mittal quando il governo stava cambiando le regole del gioco rispetto a quelle che erano in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di affitto e non esiterò di intervenire di nuovo qualora dovesse ripetersi una situazione simile, ad esempio con ulteriori o continue richieste di rivisione delle prescrizioni ambientali, industriali e operative già stabilite. Non si possono cambiare le regole del gioco o incrementare i rischi sia aziendali che personali per chi è stato chiamato con notevoli sforzi a risolvere i problemi di Taranto. Ma visto quanto sta succedendo a Trieste, cosa possiamo aspettarci? Credo che tutti e con forza dobbiamo pretendere che vengano date garanzie su qualcosa che fino a ieri davamo per scontato, la certezza del diritto. Sempre per quanto riguarda il Salon Mittal Italia, ma in questo caso penso anche a Terni, ho visto quest'estate che la scelta di chiedere la Cassa Interazione è stata interpretata come uno sgarbo ed alcuni come un segnale di disimpegno. Signori, quando all'inizio di questa relazione ho esaminato brevemente la situazione del mercato, vi ho ricordato che a partire dalla fine dello scorso anno abbiamo assistito ad un progressivo peggioramento dei volumi e dei prezzi. La siderurgia da sempre è così, è ciclica e quando si affrontano i momenti di calo della domanda è fisiologico che vengono utilizzati gli ammortizzatori sociali. Capisco che in realtà che vengono da momenti travagliati questo possa suscitare apprensione, ma che questa apprensione venga effatizzata anche e soprattutto mediaticamente da chi dovrebbe conoscere bene come noi queste dinamiche mi delude e mi amareggia. Chiudo questa breve riflessione sulle situazioni di crisi con due parole su Piombino e sull'ex Stefano di Nave. Per quanto riguarda Piombino, credo che dovremo aspettare gennaio, quando la nuova proprietà presenterà il piano industriale, sapendo comunque che non potremo non tenere conto che le riprese dell'attività produttiva, come pure l'elaborazione del piano, stanno avvenendo in una fase congiunturale che oltre ad essere molto critica non dà visibilità, perlomeno nel breve periodo. Sull'ex Stefano di Nave invece si sta consumando un altro paradosso. Un imprenditore decide di rilevare un asset altrimenti destinato alla chiusura, riassume tutti i lavoratori, presenta un piano per commentare una parte delle attività in produzione energetica a basso impatto ambientale, ed incomincia ad ottenere le autorizzazioni ministeriali, dando finalmente una prospettiva al sito e alle persone che ci lavorano. Invece di essere ringraziato, viene osteggiato, senza costrutto tecnico, con motivazioni deboli e di principio. E in questa Italia, dai procedimenti amministrativi tortuosi e infiniti, tutto va a finire in quella che è la vasca di decantazione di tutte le nuove opere, il Tar. Pazzesco. Conclusioni. Signore, signori, gentili ospiti, amici e colleghi. Si conclude in questi giorni il mio primo anno di Presidenza e permettetemi di ringraziare chi mi ha supportato in questo difficile compito e quindi tutti i Vice Presidenti ed il Consiglio Generale. Un ringraziamento particolare anche alla struttura del Direttore, che sono il vero motore della Federazione e che quest'anno sono riusciti ad organizzare, come sempre al meglio, l'Assemblea, gestendo i preparativi in contemporanea con il trasloco di sede. Bravi e grazie da parte mia e di tutti gli associati. Cari amici e colleghi, come ho più volte detto nel corso di questa relazione, ci troviamo in un momento non tra i più facili, non solo per la sidurgia e non solo per l'Italia. Non voglio farne motivo di sterile rimpianto o di inutile recriminazione. Desidero, al contrario, tranne lo spunto, rammentando anche le difficoltà che avete superato in passato, i momenti difficili dai quali avete saputo uscire, i brillanti successi che avete saputo cogliere, per fare l'elogio della vostra abilità, del vostro impegno, della vostra tenacia e per ricordare che su queste basi e su nient'altro fondo la certezza che saprete superare con pari merito del passato anche questa non facile contingenza. Questa frase non è mia. La pronunciò nell'Assemblea del 1972 il Comandatore Dandolo Francesco Rebua, che fu presidente della Sider dal 48 al 72. Sono passati 47 anni da quando fu pronunciata, ma è attualissima. È vera, è vera, perché la razza siderurgica viene da lontano, è forte e ostinata e sa tirare fuori il meglio davanti alle difficoltà. Uomini e donne d'acciaio, che non solo sono stati in grado di distinguersi nel difficile mondo della siderurgia, ma che in due casi si sono dimostrati anche capaci di presiedere autorevolmente il massimo livello di rappresentanza del sistema industriale italiano, Confindustria. Caro Beppe, voglio esprimarti a nome mio e di tutti i colleghi siderurgici il sostegno che merita nella ricerca del consenso necessario per una designazione così importante. Grazie e buona siderurgia a tutti.